Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. Nell'ultima notte un anziano paziente è morto all'ospedale di Penne nel reparto di geriatria. Si sospetta possa essere un nuovo caso di meningite. Intanto sempre dall'ospedale di Penne arrivano lamentele per il caldo insopportabile in alcuni reparti di servizi che denuncia il consigliere regionale Domenico Petineri che sollecita un pronto intervento da parte della ASL di Pescara. E' arrivato al San Massimo di Penne dopo due giorni di febbre altissima. Il 73enne che questa notte è deceduto nell'area medica accorpata del nosocomio vestino. I medici sospettano possa essere un caso di meningite. Per questo sono state effettuate le notifiche obbligatorie al servizio di igiene e il personale che ha avuto contatti con il paziente è stato immediatamente sottoposto a profilassi. Il servizio di igiene poi provvederà anche alla profilassi delle persone che sono entrate in contatto con l'uomo dice il direttore sanitario dell'ospedale San Massimo di Penne Rossano di Luzio che ci tiene a sottolineare come non ci sia ancora la conferma ufficiale della patologia che ha provocato la morte dell'uomo. Nel frattempo sempre da Penne arrivano delle lamentele in relazione al malfunzionamento dell'area condizionata. Situazione che dice il consigliere regionale Domenico Pettinari che sta raccogliendo le segnalazioni rende insopportabile per i malati la permanenza nei reparti. Il consigliere dei 5 Stelle chiede interventi immediati da parte della direzione generale della ASL di Pescara. In questo momento ci sono 36-37 gradi nei reparti e i condizionatori che ci sono, diversi condizionatori, non si staccano, salta la corrente inspiegabilmente. È una situazione veramente da terzo mondo perché i malati, i pazienti che già oppressi dalla patologia sono costretti a convivere con questo caldo e tanti si stanno sentendo male. Mi arrivano segnalazioni continue, ma questa situazione a Penne è veramente degenerata, ma anche all'ospedale di Pescara. Questo è inspiegabile perché poi vai nell'ufficio amministrativo e di staff e trovi i condizionatori perfettamente funzionanti. Io l'ho sempre denunciato e sempre lo denuncerò. Non è possibile accettare questa situazione qua. Ci sono stati accorpamenti, anche tornando a Penne, dei reparti, geriatria e medicina è stata accorpata e addirittura all'interno delle stanze sono ammassate 5-6 persone veramente come bestie. Quindi gli accorpamenti hanno prodotto più di servizi. Loro parlavano di razionalizzazione e qui stiamo parlando di danneggiamento della salute pubblica. Noi continuiamo a denunciare questa cosa, a chiedere una sterzata immediata da parte della direzione dell'Az, dell'assessore della sanità e della presidenza della regione Abruzzo che governa la sanità in Abruzzo. Diminuzione dell'erogazione idrica oggi e domani a Chieti come conseguenza dei problemi di approvvigionamento idrico che stanno interessando tutta la regione. La comunicazione giunge dall'assessore comunale ai lavori pubblici Raffaele Di Felice. I tecnici dell'azienda ACA ci hanno comunicato, dice l'assessore, che nelle giornate di oggi 5 agosto e domani 6 agosto si rende necessario predisporre sulla città di Chieti la diminuzione di 10 litri al secondo dell'erogazione idrica. Pertanto le utenze esite nei piani alti dei palazzi, soprattutto nella parte bassa della città, potrebbero subire dei disagi. Alle 17 di entrambe le giornate il flusso idrico tornerà alla normalità per essere di nuovo diminuito a partire dalle ore 23 e 30, aggiunge sempre l'assessore. E poi ancora è stato domato dopo giorni di lavoro l'incendio che si era sviluppato mercoledì a Caramanico Terme, nel Pescarese, tra le contrade Riga e De Contra, all'ingresso della riserva naturale della Valle dell'Orfento, in una zona estremamente impervia in cui si trovano pini e ginestre in fumo, un'area di circa 70 ettari. Sul posto hanno operato ininterrottamente vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari, anche con ausilio di un elicottero e di un Canadair. Considerato il grande caldo, proseguirà per i prossimi giorni il monitoraggio H24 dell'area. Cambiamo pagina, l'associazione Assai si presenta ufficialmente all'opinione pubblica nella conferenza stampa organizzata a Teramo. È stato illustrato l'impegno di Assai a livello regionale e nazionale per il raggiungimento della sicurezza nelle scuole. Oggi siamo qua per presentare Assai che è nata l'11 marzo del 2016, è nata racchiudendo le realtà delle quattro province abruzzesi. Abbiamo chiamato a raccolta i comitati più laboriosi, quelli con più inventiva e stiamo andando avanti con loro. Nasce perché c'è una condivisione di idee, c'è una condivisione di intenti e soprattutto si possono scambiare tutto quello che è stato fatto nell'arco dell'anno passato, dando così consigli su cosa fare e cosa non fare, agire così nel migliore dei modi e nel minore dei tempi. Siamo nati spontaneamente a piccoli passi e la cosa bella in questo momento è che altre sei regioni ci stanno cercando. Stiamo lavorando con un sindaco della Liguria, abbiamo contatti con due sindaci del Lazio, uno del litorale e uno dell'entroterra. In questo momento siamo contenti perché stiamo ottenendo tanti piccoli risultati dappertutto, per cui c'è stata data risposta positiva per le verifiche di vulnerabilità o ancora per quelle scalanti incendio che non erano state messe in giro. Noi puntiamo sulla sicurezza a 360 gradi, per cui al di là dell'indice di vulnerabilità, la sicurezza base nelle scuole. Questo è quello che chiediamo per i nostri figli, per i figli di tutti e continueremo a lavorare finché non verranno effettuate tutte quante le migliorie. Continuiamo a parlare di scuole ma ci trasferiamo all'Aquila. Gli studenti delle scuole inagibili saranno dislocati in altri plessi cittadini così da tornare sui banchi solo al mattino. Il Comitato Scuole Sicure è critico sul provvedimento. Vediamo. Saranno sparpagliati in tre differenti scuole gli studenti dell'Istituto Superiore Cotugno dell'Aquila, chiuso perché in possesso di indici di vulnerabilità sismica troppo bassi. È questa la decisione presa da Angelo Caruso, neoletto presidente della provincia dell'Aquila, insieme al sindaco Biondi e al capo della struttura tecnica di commissione, Giampiero Marchesi. Non saranno previste dunque realizzazioni di nuovi edifici prefabbricati. Non ci sono i soldi nei tempi necessari. Questa decisione però non soddisfa il Comitato Scuole perché anche le tre scuole individuate sono risultate essere in possesso di indici oggettivamente lontani da quelli di effettiva sicurezza. Gli studenti saranno dislocati nel polo scolastico di Colle Sapone, ovvero negli istituti da Osta, Colecchi e Bafile. Per lunedì 7 agosto è prevista l'ufficializzazione della decisione, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili in termini di aule libere e spazi utili nei vari istituti. Il Comitato Scuole Sicure dell'Aquila continua a chiedere che si elabori una soluzione al più presto per tutte le scuole aquilane. L'eventuale decisione di considerare la ricollocazione degli studenti dell'Istituto Cotugno nelle diverse sedi di altri istituti non può considerarsi una reale soluzione. Dal Parco della Serenità, in cui si svolgerebbero incontri clandestini, traccani e feroci, al palazzetto dello sport non ancora aperto. Il Movimento 5 Stelle di Pescara torna a denunciare la situazione di degrado nel quartiere di Fontanelle, chiedendo interventi rapidi e maggiori controlli. Il palazzetto praticamente mancano, se non mi ricordo male, intorno ai 190-200 mila euro e questo pare che sia stato messo addosso alla persona che vorrà gestire questo palazzetto. Quindi mi sembra un attimino assurda come cosa, ma purtroppo questa è la decisione da parte dell'amministrazione. Il problema è che sono più di 4-5 mesi che è così fermo come lo vedete. Quello che più ci preoccupa è che se dovessero andare, come fanno di solito, a rubare quello che è il rame o altro materiale, significherà spenderci il doppio e quindi per aprirlo ci sarà ancora più tempo a disposizione. Invece per il parco il problema è che ci è stato segnalato in commissione da parte dei componenti dell'Associazione per Fontanelle che la notte diventa terra di nessuno, dove fanno combattimenti di cani, dove c'è un problema di spaccio e di tossicodipendenti, dove ci sono i giochini dei bambini praticamente rotti, dove ci sono le panchine di velte messe fuori allo stesso parco. Insomma, un parco che sicuramente si chiama della serenità, ma non credo che rispecchi la parola stessa. Quindi il problema rimane, il problema è un problema di mancanza da parte dello Stato e quindi delle forze dell'ordine che purtroppo ci sono solo esclusivamente tre volte a settimana con un unico agente di Polizia Municipale che fa il suo lavoro sicuramente. Con lo sblocco dei fondi partiranno a giorni i lavori per la riapertura del tratto interrotto della strada provinciale Venti che nel Pescarese collega Pianella a Loreto Prutino. La soddisfazione del sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, tra i principali fautori della battaglia per il ripristino della viabilità su questa arteria del territorio vestino. Il servizio della nostra redazione di Vestina News. Il sindaco Marinelli, buone notizie possiamo dire sul tratto di strada SP20 che collega Pianella a Loreto. Beh sì, in questi giorni si vanno concretizzando alcuni percorsi che noi auspicavamo oramai da tempo. Credo che la forte pressione che è venuta dalle realtà delle amministrazioni locali e dai cittadini, dalle imprese abbia fatto capire ai livelli superiori della politica che non era più derogabile questo intervento. Abbiamo due finanziamenti concorrenti, uno da parte del governo nazionale che destina oltre un milione e mezzo di euro alla provincia di Pescara appunto per la sistemazione delle emergenze stradali. All'ulteriore notizia che anche la regione finalmente ha sbloccato l'auspicato intervento per 500 mila euro destinata alla strada di bonifica di Alanno ma soprattutto alla strada provinciale 20 che oramai era diventata davvero il simbolo della impossibilità per questa collettività di rialzarsi in un momento difficile. Siamo contenti di questo, speriamo a giorni di poter insieme alla provincia dare finalmente il via ai lavori per la riapertura parziale di una corsia ma subito dopo saremo assolutamente decisi e presenti per fare tutto quello che serve per avere subito una progettazione esecutiva e l'imminente avvio dei lavori perché quella strada è davvero vitale per l'economia di tutta l'area Vestina. In una conferenza stampa che si è tenuta a Roma alla Camera dei Deputati la regione Abruzzo ha annunciato che riprende la battaglia contro le trivelle pronto il ricorso contro il decreto trivelle del 2015. La sentenza numero 170 del 12 luglio scorso emessa dalla Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di una parte del decreto sblocca Italia sulla coltivazione e lo sfruttamento degli idrocarburi dando così ragione all'Abruzzo che insieme a diverse regioni d'Italia tra cui la Lombardia, la Campania e il Veneto aveva presentato ricorso. La Corte ha stabilito che la regolamentazione dello sfruttamento degli idrocarburi trattandosi di materia concorrente non fosse competenza esclusiva. Con la sentenza pubblicata il 14 luglio scorso la Corte Costituzionale ha dato nuovamente ragione all'Abruzzo annullando il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico meglio noto come decreto trivelle 2015 in quanto emanato senza preventiva intesa con le regioni grazie a ciò il Governo centrale dovrà preventivamente intendersi con tutti i territori d'Italia. Cosa che ha permesso come terzo ed ultimo punto di ulteriormente corroborare il ricorso al Capo dello Stato che abbiamo fatto in via straordinaria sempre attraverso l'avvocatura regionale dello Stato contro il decreto trivelle del 2016 che poi integrò e sostituì integralmente il precedente quello dell'anno 2015 a cui c'eravamo opposti chiaramente con delle decisioni della Supremo Corte che a questo punto fanno pendere l'ago della bilancia a favore dell'Abruzzo per la terza volta in maniera quasi immediata. La questione energetica però resta sempre un campo aperto ma Zocca chiarisce che c'è già stato un confronto con le altre regioni italiane su rinnovabili ed energia sostenibile. Se non elaboriamo un percorso di natura strategica con dei tempi brevi e medi attraverso i quali poi poter applicare ed attuare delle politiche che vanno verso la direzione di un uso dei rinnovabili ecco noi non facciamo un'opera buona né per il Paese né per la nostra regione né tanto meno per i nostri cittadini. Il mote di Teramo ha presentato una nuova applicazione per device multimediali. Vediamo di cosa si tratta. Con la presentazione di questa app Montagne Teramo e Ambiente compiamo un piccolo passo tecnologico in avanti per dare ai cittadini e alle collettività che noi serviamo sia con i servizi di raccolta sia con i servizi di conferimento nelle stazioni ecologiche che abbiamo e che avremo dell'informazione e tutte quelle utili necessità che devono essere raccolte in momenti in cui un cittadino volesse per esempio il giro degli ingombranti o di altri servizi particolari. Sappiamo pure che questo ci sommergerà magari nell'immediato di informazioni o di proteste o di richieste ma questo fa parte del gioco e quindi noi accettiamo ben volentieri benefici e oneri della modernità. Naturalmente l'app è scaricabile su qualsiasi tablet o device basta accedere al sito nel Play Store oppure nell'App Store cercando l'app Montagne Teramane e quindi si può scaricare direttamente oppure attraverso il link del sito sul nostro sito è abbastanza semplice naturalmente gratuito. Pino Insegno, Federico Perrotta e Valentina Olla portano in scena domani sera nell'abito del cartellone di estatica del Marina di Pescara uno spettacolo dal titolo C'era una volta la TV intrattenimento e storia della televisione si mescolano in una serata molto particolare di divertimento e solidarietà. Testa a spalla baby one, two, three testa a spalla baby one, two, three testa a spalla, testa a spalla testa a spalla baby one, two, three poi c'è il collo collo, collo baby one, two, three collo, collo, testa a spalla vabbè insomma questo è altro lo potrete vedere domenica 6 agosto alle ore 21? e 15 e 15 non lo sapeva al porto turistico l'arena estatica a Pescara vi aspettiamo per farvi vedere innanzitutto se sappiamo farlo tutto intero e bene il numero testa a spalla classico un classico della TV anni 60 e poi? e poi con Pino Insegno racconteremo quella televisione in bianco e nero che probabilmente oggi ci manca un po' era quella televisione che metteva ad accordo tutti magari un papà una mamma una nonna un bambino tutti davanti al televisore a ridere scherzare guardare un bel programma oggi è tutto un po' più distratto Pino Insegno è attore doppiatore presentatore amico nostro e sarà un piacere invitarvi all'arena del porto turistico dove per la prima volta finalmente si può anche cenare sotto le stelle sotto le stelle cadenti perché ormai stiamo vicino alla notte e cerca di resistere un po' a questo caldo torrido maledetto però insomma noi dobbiamo sopravvivere quindi perché non farlo con dei ricordi magici di una televisione che ha ancora tantissimo da raccontare perché ci rendiamo conto che anche sui giovanissimi sono tutte cose molto divertenti sono dei numeri che ancora hanno un senso beh concludi con la sigla invece di un programma storico come faceva ma che musica che musica che musica maestro questa bella sinfonia tutto il mondo canterà e allora vai 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 no allora vieni 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 il 6 agosto al porto turistico vi aspettiamo Pino Insegno Federico Berrotta e la parte bella dello spettacolo Valentina Olla e nell'Aquilano a San Bartolomeo di Scoppito due giorni di grande musica e divertimento ad animare le serate questa sera e domani ci saranno i college in concerto e Mirko Casadei con la sua band il comitato e feste di Scoppito torna a far divertire grandi e piccoli il 5 e il 6 luglio Scoppito è in festa tornano grandi nomi ad animare le notte scoppitane sulla piazza di San Bartolomeo nel primo giorno di festa ci saranno i mitici college in concerto il giorno 6 luglio invece ad animare la serata ci sarà Mirko Casadei e la sua band ci saranno stand dove poter degustare buoni pasti e bevande insomma tanto divertimento da non perdere e ora la pagina dello sport domani sera l'Atletico Cornacchia il Pescara giocherà la prima gara ufficiale della stagione sfidando la Triestina appena ripescata in Serie C partita secca con eventualità di tempi supplementari e rigori in caso di persistente parità chi vincerà affronterà sabato prossimo al terzo turno la vincente della partita tra Brescia e Padova il servizio dopo quasi un mese di ritiro il Pescara farà il suo debutto ufficiale stagionale domani sera alle 20.30 allo stadio Adriatico Cornacchia i Biancazzuri affronteranno in partita secca la Triestina per il secondo turno di Team Cup con direzione di gara affidata a Francesco Forno di Roma 1 gli alabardati guidati da un tecnico di spessore come Beppe Sannino sono freschi di ufficialità di ripescaggio in Serie C e nel primo turno di domenica scorsa hanno superato a domicilio di misura l'Arezzo l'attaccante Rashid Arman è la punta di diamante del mercato condotto dall'amministratore unico Mauro Milanese che ha portato a Trieste in prova Mirko Petrella l'esterno in uscita dal Teramo è cresciuto proprio nelle giovanili del Lelfino però non ha ancora firmato e non sarà della partita c'è però grande curiosità sul fronte Pescara per conoscere le prime scelte di Zeman che nelle 5 amichevoli fin qui disputate ha sempre mischiato le carte dovendo dare spazio a tutti i componenti di una rosa ancora extra large scelte certamente non definitive ci mancherebbe ma che potrebbero essere indicative ad esempio chi sarà tra i pali Fiorillo in assoluto tra i migliori portieri della categoria o Pigliacelli che ha attitudini molto zemaniane in difesa essendo indisponibili Fornasiere Bove con Campagnaro in ritardo di preparazione toccherà a coda e per rotta a meno che non venga lanciato il baby dell'icarri che finora si è ben comportato nelle amichevoli sulle corsi esterne Zampano è uno tra Mazzotte e Biraghi col primo in gran spolvero in questi giorni favorito a centro campo sembra avere il posto sicuro Coulibaly Bruckman favorito su proietti Palazzi Valsania e Memushai si contendono la terza maglia in attacco sicuro Mancuso Balottaggi Nicastro Capone sull'esterno e Gans Pettinari per la maglia di centro avanti a mezzogiorno di oggi erano stati venduti poco meno di 2.000 biglietti per la partita mentre le tessere di abbonamento al momento sottoscritte per il prossimo campionato sono 3.000 la prossima settimana si tornerà poi a parlare di cessioni con tanti fronti aperti Memushai è sempre nell'orbita degli svizzeri del Sion Benali è pronto ad accasarsi a Genova Sponda Samp dove ritroverebbe gli ex compagni Caprari e Verre su Biraghi si è fiondatore il Cagliari che nell'operazione potrebbe inserire Balzano che tornerebbe in Riva L'Adriatico su Fornasier c'è sempre Lascoli su Zampano Celudinese Bovo attende una chiamata convincente dalla Serie A altrimenti resterà Pescara il Pescara sta per chiudere la seconda parte del ritiro a Palena il sindaco del piccolo centro del Sangro Aventino Claudio De Miglio è già al lavoro per avere i biancazzurri nel suo comune anche nella prossima stagione il Pescara dice è una discreta fetta di economia per la nostra comunità Paolo Renzetti per il terzo anno consecutivo Palena ospita il ritiro del Pescara sindaco per voi una grande soddisfazione ma anche per tutta la comunità del Sangro Aventino Sicuramente sì io rappresento in questo momento il presidente dell'Unione dei Comuni siamo sei comuni e c'è un buon ritorno con questa presenza del Pescara grazie all'impegno della polisportiva Palena abbiamo questa fortuna che ci permette poi di poter ospitare squadre come l'anno scorso di Serie A ahimè poi esce in Serie B ce ne dispiace tanto ma speriamo che quest'anno sia l'anno buono per risalire Palena dunque ospita ancora una volta il Pescara come diceva c'è stata anche una buona risposta dal punto di vista delle presenze nel vostro centro sicuramente sì è un periodo anche questo che comunque le presenze già ci sarebbero state però sono aumentate di tanto e faremo in modo se vi vedo adiosi all'anno prossimo con il padrone Sebastiani di fare un incontro per far sì che facciamo un progetto più ampio progetto ampio questo vuol dire che state già lavorando per la prossima stagione incrociamo le dita perché il Pescara per noi rappresenta una buona fetta di economia ma soprattutto ne approfitto per ringraziare il padrone Sebastiani e lo dico spesso che ha diciamo scelto l'Abruzzo per il ritiro della sua squadra cosa non dà poco sapendo che l'Abruzzo è una regione ferita molti si chiedono come mai il Pescara sceglie spesso in queste ultime stagioni così è stato Palena qual è il segreto per comunque riuscire ad ospitare una squadra di serie A una squadra di serie B in un paese piccolo come quello di Palena sicuramente merito va dato agli sponsor bisogna essere onesti senza tanti sponsor non potremmo assolutamente ospitare il Pescara gran merito va anche all'amministrazione comunale che non si tira indietro per ringrazi su questo Sindaco l'ultima domanda non posso non chiederle qualcosa dal punto di vista proprio sportivo Pescara pronto per questo campionato di serie B io non sono tanto giovane però vedo che in questa squadra ci sono tantissimi giovani e io essendo come dico spesso un termine improprio drogato di calcio noto che il giovane sta un passo avanti senza offese per noi veterani anziani e ora scendiamo in Lega Pro sospiro di sollievo per il Teramo il consiglio direttivo della Lega ieri ha confermato i biancorossi nel girone B di serie C raccumpamento da 18 squadre dopo che in precedenza il consiglio federale aveva deciso di ripescare solo la triestina riducendo a 56 il numero delle compagini partecipanti alla terza serie nazionale il teramo resta nel girone B è il verdetto che più premeva alla società di Luciano Campitelli ed è arrivato dopo un venerdì piuttosto animato nel quale il consiglio federale doveva esprimersi sull'organico della Lega Pro sostanzialmente definendo il numero delle ripescate ed eventuali riammessi al campionato alla fine sono 56 le squadre spiazzando chi praticamente tutti dava per scontato un format mozzato sì ma con 57 squadre a sorpresa escluso il Rende per problemi con la fideiussione anche se la società calabrese dopo aver esaminato le motivazioni potrebbe decidere di presentare ricorso al collegio di garanzia del CONI unica ripescata alla Triestina poi la palla è passata al consiglio direttivo di Lega Pro che ha optato per tre gironi di numero pari 20 squadre nel girone A 18 in quelli B e C per il teramo ci sono i vantaggi di conoscere bene il raggruppamento dove ha militato nelle ultime tre stagioni e di contenere sensibilmente i costi per le trasferte che si sarebbero moltiplicati con le partite in Puglia Calabria e peggio ancora in Sicilia è pur vero però che tecnicamente il girone B esprime una cifra non indifferente e il teramo ha rischiato seriamente la retrocessione pochi mesi fa ma il girone B lo volevano un po' tutti in casa teramo ed eccolo con il diavolo che se la vedrà con 4 Venete Bassano Mestre Padova e Vicenza 4 Emiliano Romagnole Modena Sant'Arcangelo Ravenna e Reggiana 3 Marchigiane Fano Fermana San Benedettese le Lombarde Albinoleffe Feralpisalò le Friulane Pordenone Triestina l'Umbra Gubbio e l'Alto Atesina sul Tirol saranno promosse le prime di ogni girone e si attende il meccanismo dei playoff scende a 5 invece il numero delle retrocesse anziché 9 per poter tornare al format 60 il prossimo anno giù le ultime dei tre gironi una quarta retrocessa uscirà fuori dal playout del girone A quello a 20 squadre tra penultima e terzultima la quinta verrà fuori dallo spareggio tra le perdenti dei playout dei gironi B e C ma anche in questo caso si attende l'ufficialità del meccanismo una grossa novità è che anche in Lega Pro come in Serie D dal prossimo anno si potranno fare 5 sostituzioni anche se sempre concentrate in tre finestre la proposta partita dalla LND è stata approvata dal Consiglio federale che ha dato deroga al Presidente Tavecchio di autorizzare tale modifica anche per la Serie C sempre parlando di Lega Pro e di Teramo domani la squadra bianco-rossa farà il suo debutto ufficiale stagionale nella prima gara del triangolare di Coppa Italia di Lega Pro sul neutro di Fano il Teramo sfiderà la fermana e nel pomeriggio per presentare l'appuntamento ha parlato il tecnico terramano Antonino Asta ascoltiamolo io in questo momento credo che non sono noi anche tutte le altre squadre sinceramente non arrivano nelle migliori condizioni ma per tanti motivi uno quello fisico perché è normale siamo ancora in piena preparazione vale per tutti quindi qualche problemino fisico ce l'abbiamo noi ma ho visto ce l'ha anche la fermana quindi non sarà veritiera a queste partite in quello che ogni squadra poi dimostrerà o quantomeno metterà in campo durante il campionato però comunque è già stimolante avvicinarsi è una partita che conta che hanno un valore la vittoria a confronto le amichevoli e quindi capire quanto i miei ragazzi sono competitivi nel voler già ottenere un risultato positivo e questo mi fa piacere ma sicuramente mancherà Fratangelo insomma arriva Dano Tonsillite arriva è ancora nel pieno febbre alte tutto quindi mancherà lui però nello stesso tempo mancano quelli che non ci sono ecco capiamoci è normale quindi nella situazione che sappiamo che stiamo cercando insieme alla società di risolvere di far arrivare quei giocatori che ci siamo sempre prefissati si sta muovendo bene lo so io sono tranquillo e sereno non è questa la partita che deve fare la differenza è logico che bisogna rinfoltire rimpolpare la rosa più che mai ma questo è evidente perché domani andremo con 16 giocatori di movimento e due portieri invece il commento sul girone rimane un commento come quello dello scorso anno come si è detto in passato non solo io ma anche i miei colleghi era il girone più difficile lo è stato la dimostrazione tre squadre su quattro alle fasi finali forse forse è cambiato che non ci sono magari delle corazzate ecco Parma e Venezia però comunque non ci sono le due corazzate ma ci sono molte più squadre forti visto il fatto che diminiscono le retrocessioni un piccolo sollievo può darsi non c'è dubbio questo perché comunque sono minori le retrocessioni ce lo siamo detto quello che vogliamo fare vogliamo fare una stagione non di sofferenza il mio primo obiettivo è quello di migliorare quello che è stato fatto lo scorso anno scendiamo in serie D ai microfoni del TG6 il presidente dell'Avezzano Gianni Paris ha spiegato i motivi del sonero lampo dell'allenatore Umberto Marino la prossima settimana si deciderà sul nuovo tecnico testa a testa tra Alessandro Lucarelli che è favorito e Alessandro Del Grosso vediamo Presidente Paris è stato scalpore la decisione di esonerare dopo una decina di giorni di lavoro il tecnico Umberto Marino che cosa è successo e perché si è arrivati a questa scelta? in otto anni non mi era mai capitato di vedere una spaccatura tra la squadra e il mister purtroppo mi è capitato di vedere anche questo e da lì poi la decisione o mandavo via dieci giocatori almeno oppure mandavo via l'allenatore ho seguito la scelta più semplice quella di mandare via il mister mi dispiace per lui ma forse è mancato in aplomb in diplomazia in alcuni rapporti con giocatori che poi per la società avevano un peso non solo di sostanza ma anche con ombi ho spiegato al mister che non avremmo vinto niente con questa frattura che secondo me appunto non si sarebbe mai potuta recuperare da quello che si intuisce sembra fatta per un ritorno di Alessandro Lucarelli è così o sono ancora in ballo i vari Giampaolo del Grosso e altri allenatori di cui si è letto ma in realtà con Alessandro Lucarelli c'è un feeling da anni con lui siamo andati in Serie D abbiamo fatto il primo campionato di quarta serie e quindi ovviamente con Lucarelli c'è un buon feeling e per me potrebbe essere l'allenatore giusto abbiamo sentito anche del Grosso che non ha ancora firmato a Lanciano per via della situazione deciderò la settimana prossima in tutta serenità perché sento anche poi quello che è il rumor della piazza eccetera ci tengo adesso sia la squadra non può più sbagliare che anche il presidente quindi faccio una scelta di cuore ma anche di testa sono questi due nomi in ballo o ce ne sono degli altri? sono solo Lucarelli e del Grosso e proprio tutto anche per la terza edizione del TG6 il nostro notiziario torna dopo domani lunedì alle ore 14 con la prima edizione io vi auguro una buona notte e una buona domenica per la terza